Una giornata di mobilitazione per sensibilizzare le istituzioni sulle carenze, le lacune e le problematiche del trasporto pubblico locale. Uno sciopero di quattro ore è stato indetto per il prossimo 26 aprile dalle quattro sigle sindacali dei trasporti Filt CGL, CISL Reti, Will Trasporti e Faisa CISAL con l'astenzione dal lavoro per tutti gli auto ferro tranviari delle aziende pubbliche e private operanti nella regione Abruzzo nel rispetto delle modalità previste degli accordi attuativi. Diversi motivi alla base della decisione. Intanto il taglio delle risorse agli 8 milioni di euro sottratti dal governo alla regione Abruzzo per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento si aggiungono i tagli al Fondo Nazionale Trasporti che si riflettono con una ulteriore diminuzione di risorse per l'Abruzzo pari a 2 milioni di euro. In una recente riunione coi vertici della regione è emerso che mancano all'appello 15,5 milioni di euro per il 2016 e altri 15,5 milioni per il 2017, uno stato delle cose che comporta il default del trasporto pubblico regionale. Il parco rotabile gomma ferro è talmente obsoleto che l'Abruzzo è ampiamente sopra la media per il coefficiente di anzianità dei mezzi, collocandosi tra le ultime regioni sotto questo profilo. Il biglietto unico resta al momento ancora nel cassetto, doveva essere la soluzione per incentivare l'uso del trasporto pubblico, un titolo di viaggio unico a prescindere dal tipo di trasporto e dal vettore, ma non se n'è fatto nulla. A tutto ciò si aggiungono l'assenza di definizione del piano regionale integrato sui trasporti, strumento teso a migliorare il coordinamento dei vari settori, limitando inefficienze e sovrapposizioni e la mancata applicazione di un accordo integrativo sottoscritto dai sindacati con la regione Abruzzo nel maggio 2004. Argomenti al centro di un serrato confronto con le istituzioni, finora senza risultati, tanto da indurre le quattro sigle sindacali alla giornata di mobilitazione del prossimo 26 aprile.